Prima di tutto dobbiamo chiederci che cos'è il feudalesimo. Il termine deriva dal latino feudum, che vuol dire feudo, cioè il territorio dato appunto in concessione a un vassallo, e questa parola a sua volta deriva probabilmente dal germanico feu, che fa riferimento al bestiame e quindi alla proprietà mobile più che alla proprietà terriera. D'ogni modo il termine feudalesimo è stato ampiamente utilizzato dopo la fine del Medioevo per definire quello che era il sistema sociale ed economico tra la fine del mondo antico e l'avvento del capitalismo e della società borghese. In questa eccezione lo troviamo nelle opere ad esempio di Adam Smith o di Karl Marx. Soltanto nel XX secolo si è arrivati a una definizione storiografica un po' più accurata. Vanno menzionate quella di François-Louis Ganshoff, storico francese, che definiva il feudalesimo come l'insieme di obblighi legali e militari reciproci che coinvolgevano la nobiltà guerriera del Medioevo. Ma già il suo contemporaneo Marc Bloch, uno dei più importanti storici del Medioevo, nel suo saggio da feudale, estendeva questa definizione a tutta la società, per cui si trattava degli obblighi che vincolavano tutti i ceti sociali, non solo la nobiltà ma anche il clero e i contadini. Ed ogni modo il feudalesimo come concetto è stato spesso messo in discussione, soprattutto negli ultimi decenni, perché è difficile trovare un modello feudale che possa descrivere in maniera accurata le società medievali nella loro complessità. Per cui a volte troviamo un'estensione del termine fino ad ambiti ex-europei come il Giappone dei samurai e a volte invece ci sono storici che fanno notare come un feudalesimo vero e proprio sia forse in Francia, in altri paesi dell'Europa occidentale, ma già questa definizione è impropria in altri contesti europei più periferici. Tenendo conto dei limiti di questa definizione, veniamo ora a tracciare rapidamente la storia del feudalesimo, a partire dalla caduta dell'impero romano all'occidente, con la disintegrazione del suo sistema politico-amministrativo e la nascita dei regni romano barbarici, nei quali conviveva il diritto romano dei popoli latini e il diritto germanico dei nuovi popoli conquistatori. Tra questi regni si affermerà come preeminente il regno dei Franchi che darà vita all'impero carolingio nell'VIII secolo, l'impero di Carlo Magno, che tra l'altro è uno stato tipicamente feudale, patrimonio cioè del sovrano, tant'è vero che verrà poi diviso tra i figli cose impensabili per uno stato moderno. E in effetti Carlo Magno, dovendo governare un impero così grande, favorirà una decentralizzazione militare e amministrativa, creando conti e marchesi con dei territori, dei feudi, in loro appannaggio, necessari a chi potessero mantenere le truppe necessarie al sovrano. E in realtà, con la disgregazione anche in Pio carolingio, per circa un secolo avverrà una vera e propria anarchia feudale, in cui i vari vassalli domineranno senza una vera e propria autorità centrale forte, anche perché col capitale di Chiersi, nel 1877, questi feudi erano diventati ereditari. E in effetti, anche dopo che con la rinascita ottoniana verrà rifondato un'autorità imperiale, il Sacro Romano Impero Germanico, verrà proseguita questa tendenza, già con la Costituzione dei Feudis nel 1037, che concederà l'ereditarietà anche ai feudi più piccoli. E per questo che nel XI secolo si assiste a una vera e propria rivoluzione feudale, soprattutto in Francia, con la frammentazione dei feudi, e quindi il regno che diventa sostanzialmente impotente a contenere le spinte centrifughe dei vari vassalli. Ma al tempo stesso anche la diffusione del sistema feudale al di fuori di quelli che erano i vecchi confini dell'impiego carolingio, quindi nell'Europa orientale, nelle isole britanniche con la conquista normanna, nella Spagna con la riconchista. Ma in cosa consisteva di preciso il feudalesimo? Beh, nel suo nocciolo si tratta di una relazione personale tra il signore, dal latino senior, anziano, e un vassallo, bassus, voce celtica, che vuol dire giovane. Questa relazione personale, quindi diseguale, si fondava su tre elementi. Innanzitutto un elemento reale, ossia l'esistenza di un feudo, di una proprietà terriera o di beni che venivano concessi dal signore al vassallo. Secondo luogo un elemento personale, cioè una vera e propria relazione tra i due, per cui il vassallo rendeva omaggio al suo signore, cioè gli giurava fedeltà, e in cambio il signore lo investiva con l'investitura del feudo. E infine un elemento giuridico per cui il vassallo all'interno del suo feudo godeva della piena immunità, cioè non poteva essere toccato dalla giustizia del sovrano. E inoltre, spesso volentieri, godeva anche la giurisdizione, cioè era lui che poteva amministrare la giustizia in nome del sovrano all'interno del suo feudo. Col passare del tempo, però, già dopo la morte di Carlo Magno, si avverrà verso un processo di feudalizzazione per cui i feudi che inizialmente erano incomodato e quindi tornavano al sovrano alla morte del vassallo diventano dei domini ereditari per cui il feudatario, pur essendo formalmente sottoposto al sovrano, arrivava ad avere pieno controllo del suo feudo, ottenendo la fedeltà dei scavalieri e dei piccoli proprietari che vivevano sulle sue terre e arrivando poi a consolidare il suo potere costruendo un proprio castello, una dimora fortificata, e questo processo di incastellamento, cioè di costruzione di castelli, andò di pari passo con il maggior potere ottenuto dai signori feudali a scapito dell'autorità centrale. Parlando poi della società feudale, va ricordato che l'immagine qui presente della piramide feudale, tanto popolare nella storiografia e poi nella divulgazione fino all'inizio del XXI secolo, in realtà è inadeguata descrivere la complessità della società feudale e dei suoi rapporti di potere, per cui serve più opportuno parlare di una rete o di una catena di obblighi di vassallaggio più che una piramide vera e propria, nel senso che il sovrano aveva dei vassalli e questi vassalli spesso avevano altri vassalli sotto di sé, ma era frequente che un signore feudale potesse essere vassallo di più signori, magari perché possedeva diversi feudi ricevuti da signori diversi. Quindi bisognerebbe piuttosto precisare che innanzitutto questi rapporti riguardavano la nobiltà. La nobiltà, cioè i bellatores, coloro che combattono, erano una delle tre classi sociali rispetto agli oratores, coloro che pregano, cioè il clero, e i laboratores, coloro che lavorano, cioè tutti gli altri. Per cui, oltre al sovrano e i vassalli, vi erano poi i cavalieri che erano bellatores, cioè combattenti senza terra, che quindi erano costretti a giurare fedeltà a un signore, e infine i contadini, i quali potevano essere liberi, oppure godere di meno libertà e diritti come i servi. All'olimoglio esisteva effettivamente, almeno sul piano teorico, una gerarchia dei titoli e dei feudi. A partire dal sovrano, che era di norma il re, ma poteva anche essere l'imperatore, che formalmente era lì sopra dei vari re, anche se non necessariamente questi ne riconoscevano l'autorità all'atto pratico. Poi vi erano i duchi, del latino dux, comandante militare, i quali erano generalmente membri della famiglia reale. Con l'eccezione dell'Italia, dove rimanevano ducati di origine longobarda, o della Germania, dove i ducati originari rappresentavano in realtà popoli germanici, come gli alamanni, come i sassoni, seguivano i marchesi e i conti. I marchesi governavano una marca, cioè un territorio di confine, quindi un ruolo più specificamente militare, quindi più importante rispetto ai conti, che invece amministravano un territorio più sicuro. Sotto i conti vi erano i visconti, almeno in alcune regioni del nord Europa, e poi i baroni, i quali erano i meno potenti, tra i feudatari, gli ultimi ad avere un feudo proprio. Infine, dal punto di vista economico, il modello prevalente dell'Alto Medioevo era l'economia curtense, che si era sviluppata parallelamente, ma in maniera distinta rispetto al feudalesimo. Questo modello si basava sull'eredità della villa romana, cioè dei latifondi coltivati dagli schiavi che attorniavano la villa padronale, che era anche un centro di produzione agricola, artigianale, e poi vi erano i coloni, che erano contenini liberi, che avevano i propri terreni, ma si erano posti sotto la protezione del padrone della villa. E' su questo modello che si organizza la corte medievale con una pars dominica che appartiene al dominus, al signore, il quale viveva nella sua dimora nel maniero, attorno al quale vi erano le stalle, i magazzini, spesso anche una cappella, insomma, era il centro della corte. E poi attorno vi era anche una pars massaricia, c'è una parte divisa in mansi, cioè in appezzamenti di terra, che erano affittati ai contadini liberi, a coloni, che pagavano al proprio signore le tasse in natura o con alcune giornate di lavoro o le corvée. E in realtà l'economia curtense per lungo tempo è stata ritenuta un modello di economia chiusa volta solo la sussistenza e l'autoconsumo. Recentemente invece è stato dimostrato come anche se la modalità dell'autoconsumo era prevalente soprattutto in certi periodi al tempo stesso non venne mai il commercio sia interno che esterno per acquisire anche quei beni che la corte non poteva produrre. Questo perché comunque la valuta non spari mai del tutto. E a questo ovviamente si affiancavano il baratto e altre forme di scambio. di scambio. di scambio.